Da quando siamo rientrati in possesso di questo luogo stiamo lavorando affinché possa essere veramente a disposizione di tutti gli sport. C'è ancora molto da fare e c'è ancora molto da investire. L'importante però dal punto di vista dell'amministrazione è diversificare ed accogliere il più possibile discipline e sport che vengono praticati sul nostro territorio. L'assessorato allo sport e Sara Zangrilli in particolare hanno lavorato affinché questo evento potesse essere accolto a Colleferro che ormai da qualche tempo è una città che si distingue per accogliere eventi di un certo calibro e di un certo peso. È proprio il caso di dirlo questa volta. Il palazzetto è il luogo più idoneo, il palazzetto vedrà importanti iniziative anche strutturali che necessitano al suo nuovo ruolo all'interno di questo territorio, di un territorio vasto che accetta e utilizza strutture di questo tipo nel tratto di Lazio che va fra Roma e Plosinone. domenica saremo di nuovo qui perché inaugureremo la parete rocciosa che è stata costruita per l'arrampicata che vedete dall'altra parte del palazzetto. In bocca al lupo a tutti gli atleti, buona giornata, buona serata e speriamo che smetta di piovere.